Io approfitto perché questa sia un'occasione per riflettere, per fermarci, per pregare, per ritrovare noi stessi in un periodo che è complicato per le nostre comunità, caratterizzato da un recente dramma, un incidente che ci ha messo tutti quanti a dura prova da un punto di vista emotivo. Ricordo però che c'è anche un conflitto in Europa, insomma le preoccupazioni per la nostra comunità sono davvero tante e credo che questo passaggio, questo ritorno nella nostra terra veneta non sia un passaggio che avviene a caso ma avviene in un momento in cui la nostra comunità aveva bisogno di ritrovare se stessa e lo possiamo fare proprio vicini a Papa Pio X che è stato un punto di riferimento per la nostra diocesi e per le nostre comunità.